Amara sorpresa per le famiglie teatine che hanno trovato nella cassetta della posta le bollette scadute del 2022 riguardanti la Tari, la tassa sui rifiuti. Sono esattamente 23.500 gli avvisi inviati dalla società a cui il Comune ha affidato l'attività di riscossione, la Teate Servizi, con l'indicazione di procedere al pagamento dell'intero tributo senza possibilità di rateizzazione entro 15 giorni. Il commissario liquidatore della società, come riportato dal quotidiano Il Centro, è critico nei confronti dell'amministrazione comunale, pronta alla risposta del sindaco Diego Ferrara che vuole fare alcune precisazioni. Niente di trascendentale. Le bollette arrivate possono essere tranquillamente rateizzate dai cittadini, quindi nessun allarme, nessuna vessazione nei confronti dei cittadini. Diciamo che il dottor Diorio, in questo frangente in cui è stato nominato liquidatore di Teate Servizi, si è trovato davanti una mole enorme di lavoro. Il primo cittadino, in sostanza, apprezza quanto sta facendo il commissario liquidatore, anche in vista dell'approvazione del bilancio di quest'anno, che molto probabilmente sarà in positivo. Quindi è probabile che Teate Servizi possa tornare in bonus. Intanto siamo in attesa della consegna del piano congordatario. Quindi con questo voglio fare un elogio al dottor Diorio. Nello stesso tempo le sue parole non sono proprio veritiere. Dire come ha fatto lui che il comune è in ritardo è falso, in quanto noi la delibera sulla Tari l'abbiamo approvata, portata in consiglio comunale, è approvata il 31 maggio del 2022, ben un mese prima rispetto alla proroga che il governo aveva dato a fine giugno. E abbiamo anche pubblicizzato gli sgravi sulla Tari complessivamente ammontanti a 1.600.000 euro, di cui 800 tra famiglie e aziende ne hanno beneficiato. Quindi il comune ha fatto tutto in perfetta regola. Ma è vero che ci sarà una sanzione ogni giorno che passa? Non c'è nessuna mora, basta confrontarsi con gli uffici. Quindi, ripeto, nessun allarmismo, per favore.